Arzachena Torres termina in parità 2-2 risultato finale, rosso-blu che conquistano un ottimo punto in Gallura verso l'obiettivo della salvezza, partita piena di emozioni quella ieri al Biagio Perina, decisa tutta nel secondo tempo. Sassaresi che sono passati vantaggio due volte, prima con il nuovo arrivato l'attaccante Emanuele Tedesco che trasforma in rete dagli 11 metri, dopo 3 minuti il pareggio dei smeraldini con Cacorri. Al 58esimo Turitani in 10 per l'espulsione di Riccardo Pinna, ma al 68esimo è di nuovo la Torres a portarsi in vantaggio, grazie ad un capolavoro di Filippo Mascia che con un colpo sotto supera il portiere. E' il sesto gol in campionato, il quarto in due partite per l'attaccante sassarese classe 2002. Sembra quasi fatta per il rosso-blu, ma all'87esimo arriva il gol dei padroni di casa con Rossi per il pareggio finale. Seconda sconfitta di fila per il Sassari Latte Dolce, ieri è battuto 2-0 a Muravera, match che si sblocca al terzo della ripresa con Satta e che viene chiuso alla 43esimo da Nurchi. Girone di ritorno partito male per i Bianco Celesti, la classifica in questo momento dice play-out, anche se gli obiettivi ad inizio stagione erano ben altri. Domenica in casa arriva il Monterosi, avversario forte e tosto, ma ora bisogna dare delle risposte.